Si è svolta domenica scorsa la sedicesima edizione del premio internazionale IBLA. Hanno ricevuto il premio che quest'anno gode della compartecipazione della Presidenza della Repubblica il prefetto Giovanna Cagliostro per lo sviluppo dei territori, il dottore Francesco Puleio, procuratore capo di Modica per l'antimafia, il colonnello della Guardia di Finanza Francesco Fallica per l'antimafia. Io ho lavorato con passione, la cosa importante nel nostro mestiere è lavorare con passione. Io ho creduto nel lavoro che ho fatto qui a Ragusa e questo riconoscimento oggi è un po' un riconoscimento, io credo, intanto alla categoria dei prefetti, che si spendono sul territorio, si spendono per raggiungere obiettivi importanti per i cittadini di riferimento. Io l'ho fatto per il territorio ragusano e sono molto contenta. E anche un riconoscimento alla generosità del popolo ragusano perché è vero che io, come ha detto lei, ho lavorato con passione, mi sono spesa, però l'ho fatto perché i cittadini ragusani mi hanno dimostrato da subito un affetto, un'apertura che io non dimentico. Qualche volta anche sono a Lucca all'opera e cito sempre degli esempi ragusani. I miei mi dicono eccellenza basta, lei adesso è il prefetto di Lucca e non di Ragusa. Quindi ecco questo dimostra il mio legame tuttora anche allontanandomi dal territorio ragusano con tutti voi. Sicuramente la realtà di Ragusa, la realtà di Modica nella quale mi sono trovato ad operare, mi trovo ad operare, è una realtà che non presenta una criminalità aggressiva e violenta come c'è in altre zone della Sicilia, come purtroppo è presente a Catania, da dove io provengo e dove ho lavorato per tanti anni. Però questo non vuol dire che non ci siano degli affari illeciti, che non ci siano degli interessi e che soprattutto non bisogna sempre tenere alta la guardia e continuare un'attività di prevenzione, di controllo di tante manifestazioni criminali che comunque sono presenti sul territorio. Manca quella più pericolosa, più sgradevole, più violenta, come dicevo prima, ma ce ne sono presenti altre alle quali occorre dare sempre la dovuta attenzione. Io ringrazio questo premio, io ringrazio perché è stata una bella cosa, però non so se me lo merito, evidentemente chi ha stabilito questo si è anche così determinato e io apprezzo e sono contento e lo ricevo volentieri. Però da qui anche per il mio modo di vivere e per il mio modo di pensare non sono soddisfatto. Non sono mai soddisfatto perché penso che il traguardo prossimo sia sempre il traguardo più importante, quindi quello che ho fatto prima facilmente anche così psicologicamente lo dimentico. Penso sempre al prossimo, alla prossima attività. Una continua lotta. Una continua lotta perché il tuo mestiere è anche la mia passione, perché per me, devo dire la verità, ci sono nato in questo mestiere, quindi mi piace, lo faccio volentieri. E diventa poi col tempo anche una passione, quindi cerchi sempre di migliorarti e di arrivare a quegli obiettivi che ti poni oppure che ti pongono gli altri. Dicono che bisognerebbe fare anche questo, bisognerebbe fare così, bisognerebbe fare anche questo e questo mi dà sempre una carica nuova e mi fa sempre pensare al prossimo. E quello che ho fatto me lo dimentico. Avere la compartecipazione del Presidente della Repubblica che ha elevato il premio di rappresentanza al primo livello della Presidenza della Repubblica, tant'è che il Governatore della Banca d'Italia e gli altri premiati, l'amministratore delegato dell'Unicredit e il Direttore Generale di Intesa San Paolo, Micichè, saranno premiati al Quirinale. Quindi significa che nessun premio è arrivato a tale livello. Possiamo ricordare Pignatone che aveva il premio di rappresentanza al Presidente della Repubblica e l'Oscar per la carriera. E' venuto qua, in questa casa, a casa mia, sono stato onorato di avere il Procuratore Pignatone insieme a Scarpinato, che oggi sono il Dottore Scarpinato e il Procuratore Generale di Palermo, la più alta carica di magistratura della Sicilia. Sono i successori di Falcone e Borsellino. Il Procuratore Pignatone e il Procuratore Capo di Roma, passando dal Reggio Calabria, avendo sequestrato all'Andrangheta qualcosa come 18 miliardi di euro. Significa, ed è stabilizzante, pensare il lavoro di questi che hanno proseguito il lavoro di Falcone e Borsellino. Se pensiamo, noi abbiamo premiato Giancarlo Caselli, il Procuratore Grasso, il Presidente del Senato, Michele Santoro, Gorbacev, se vi ricordate, è stato in questa casa, è stato Ateie, che è l'ambasciatore della Palestina in Italia, tant'è che Abu Mazen, come Presidente del Premio, mi ha invitato personalmente in Palestina per ringraziarmi personalmente. L'Aia Sira, che è la più grande televisione, più diffusa della televisione del mondo, con un miliardo e duecento milioni di share, per due o tre telegiornali ha parlato della caduta del muro di Berlino e della caduta del muro di Israele, grazie al piccolo contributo del Premio Internazionale Libra.